Era la prima volta che ci concentravamo proprio su una esposizione dedicata al settore privato nella cooperazione allo sviluppo, quindi eravamo tutti abbastanza, non sapevamo che livello di risposta avremmo avuto dal pubblico e mi sembra che la folla che vedo essere presente nei tantissimi eventi che si accavallano, testimoni un interesse in tutte le manifestazioni che hanno come tema appunto quello di contribuire tutti insieme a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Auspichiamo che manifestazioni come questa si producano anche in futuro e contribuiscano sempre di più a mettere in contatto il mondo dell'imprenditoria che è così vivace nel nostro paese, soprattutto a livello di piccole e medie imprese con il mondo più tradizionale che è rappresentato dalla società civile, dalle università e dagli enti locali.